Ciao Astronomers! Sesto Sensor 3 SC è la versione speciale del nostro motore di focusing robot designato specificamente per telescopi di SC. In questo video vi mostrerò come installarlo sul tuo telescopio. Iniziamo! Sesto Sensor 3 SC viene con il nuovo clamp di pulito, che permette una connessione direttamente con telescopi di SC con sistemi di concentrazione interiore. Prima di iniziare l'installazione, posizionate il tuo telescopio rotzontale per evitare la scuola di scuola. Prendete il nodo di concentrazione del telescopio. Potrebbe necessario un po' di forza. Prendete le scuola che scegurano il ruolo rotzontale, poi ridete il ruolo completamente. Questo esceglie l'interno del focuser. Ora, attacca il sesto Sensor 3 SC adattante usando le stuola di scuola di scuola. Questo riempie il ruolo rotzontale originale rotzontale e proviene la base di montaggio per il sesto Sensor 3 SC. Prima di sceglierlo completamente le scuola, assicuriamo che il cilindro del focuser del cilindro del cilindro è benvenuto. Per evitare stressare le ruolo rotzontale, sceglierlo i tre scuola gradualmente e in sequenza. Prendendo sui modello del telescopio, potrebbe necessario inserire il sesto adattante in questo sesto Sensor 3 SC motor, normalmente per scuola di scuola di 6 a 9,25 a 4, per farlo fito al telescopio del focuser. Ora, pulite il motore sul fokuser fino a si sta contro l'adattante. Rotate il nodo manuale del Sesto Sensor 3 SC per alineare il ruolo di scuola di scuola di scuola con il scuola di 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 scuola per sceglierlo il sesto del telescopio del telescopio. Rotate il corpo del motore alla orientazione che meglio adattano la vostra scuola di scuola di scuola. Sceglierlo per sceglierlo le due scuola che connessano il sesto Sensor 3 SC con l'adattante. Prima di poterlazionare, rotate il nodo manuale del focuser per controllare se il movimento è uniforme. È normale per il sentire più stile da prima, ma deve rimanere semplice e consistente. La vostra installazione del sesto Sensor 3 SC è ora completa. Ora, connessi l'inclusione di 12V a un'attività di svuola di scuola di scuola di scuola e aggiungi l'attività di USB-C da vostra Eagle o qualsiasi Windows 10 o 11 computer. Il luogo di LED si avvicina e, dopo un po' di seconda, il luogo di LED si avvicina, confermando se il motore è pronto. In Windows Device Manager, controlla quale porto è assicurato al tuo sesto Sensor 3. Se il dispositivo non si avvicina o si avvicina una scuola gialla, significa che Windows non si può installare l'adattività automaticamente. E devi installarlo manualmente. Usando l'adattività che trovate in questo software software di Sesto Sensor 3 che puoi downloadare dal sito di Prima Luce Lab. Download e installa il nostro software di play dal sito di Prima Luce Lab. Launch play e apre la seczione configurazione. Seleziona il dispositivo del focuser. Seleziona il porto che è assicurato al vostro sesto Sensor 3 SC. Poi clicca Connect. Prima di usare, bisogna calibrare il sesto Sensor 3 SC con il tuo telescopio. Play offre due modi di calibrazione per il sesto Sensor 3 SC. Auto, che è il nostro consiglio, e manuale. Selezionate l'auto, il motore automaticamente cercherà per le posizioni minimi e maximi. selezionate le posizioni manuale, poi il motore si muove alla posizione medio e la calibrazione è completata. Selezionate il manuale, rotate il nodo del focuser in modo che si ferma, poi clicca Confirm Zero position. Poi rotate anti-clockwise in modo che si ferma di nuovo, e clicca Storz Max. Poi clicca Next e la calibrazione è completa. Poi ricordate che puoi calibrare il vostro sesto Sensor 3 SC anche utilizzando l'handpad virtuale, che ti permette di controllarlo anche per utilizzare un smartphone o tablette. E' così! Ora il vostro sesto Sensor 3 SC è completamente installato, collegato e calibrato, pronto per le vostre sessione di osservazione o immagini. Per più contenuti che ti aiuteranno a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e... Clear skies! ...